via bianca di savoia 20 nel cuore di milano entro la cerchia delle antiche mura spagnole ha avuto la sua sede sino al 1975 la casa editrice mondaduri qui nel comune di segrate fuori da un tessuto urbano congestionato in prossimità dei più importanti nodi stradali e dell'aeroporto fu deciso di edificare la nuova sede il progetto venne affidato a oscar niemeyer il celebre architetto costruttore di brasilia con lui collaborarono due altri architetti l'italiano luciano pozzo e il brasiliano glauco campello fu nell'autunno del 1970 che si cominciò a lavorare nel cantiere di segrate l'ingegnere antonio nicola che ha calcolato le strutture ha chiesto per ogni centimetro quadrato di cemento una resistenza non inferiore a 350 chili al termine dei lavori oltre 1650 tonnellate di acciaio saranno state impiegate per formare l'invisibile e formidabile scheletro dell'edificio qui vediamo l'armatura dei pilastri con barre di 60 millimetri appositamente trafilate ed ecco le armature in legno degli archi dalle auto betoniere una grande pompa fa salire il calcestruzzo fino a un'altezza di 25 metri oltre 7000 tonnellate di cemento piovono quassù per formare i solai e i pilastri dell'edificio e le fondamenta aeree a cui appendere l'edificio potranno dirsi completate 46 sono gli archi tutti diversi con luci variabili da 3 metri e mezzo a 15 metri capricciosa di simmetria che alleggerisce l'imponenza delle strutture e toglie loro ogni inflessione di neoclassicismo ora è necessario costruire l'intelaiatura appesa dove gli uomini dovranno vivere e lavorare una gabbia di vetro e acciaio di 7000 metri cubi suddivise in cinque piani e progettata dagli ingegneri leo finzi e edoardo nova ognuno di questi tiranti realizzati in un acciaio ad alto limite elastico è pronto a sostenere un carico di 250 tonnellate la saldatura a nodi rigidi di travi e tiranti è già stata realizzata in officina e e e e e e e è giunto il momento di avvolgere le ossature metalliche nella loro veste di vetro disposto su cinque piani l'open space lo spazio aperto degli uffici viene uniformemente ricoperto da una controsoffittatura in lamelle di alluminio il chiaro scuro delle lamelle maschera la rete di canaletti entro cui circolano aria ed elettricità in questo patio che s'apre al centro di uno dei due edifici minori s'affacceranno la mensa una banca un supermercato un'edicola una libreria il lago progettato da niemeyer è insieme scolo delle acque piovane serbatoio per l'impianto antincendio regolatore di temperatura per la climatizzazione degli edifici della vasta proprietà su cui gli edifici sono sorti nove decimi sono stati destinati a verde o a lago quando giorgio mondadori venne a brasilia si interessò all'architettura brasiliana e mi interpellò desideroso di fare qualcosa di diverso anche in italia dinanzi all'opera terminata ringrazio giorgio calanca che ha supervisionato tutti i lavori mantenendo nel suo staff quell'ambiente di amicizia necessario affinché le cose potessero procedere nel modo migliore ringrazio ancora luciano pozzo e glauco campello che hanno collaborato ai programmi di architettura e antonio nicola che ha realizzato le strutture e jace vulcao e pomodoro che con i loro talenti hanno contribuito all'arricchimento del progetto per quanto riguarda il mio lavoro si senza aggiungere altre spiegazioni mi piace l'edificio per esempio vedo in esso alcune cose che mi piacciono particolarmente il colonnato che lo delimita il ritmo diverso che hanno le colonne con le arcate dalle dimensioni molto differenti tra di loro credo che tutto questo rappresenti l'importante contributo dell'architetto perché in un'opera architettonica un'idea nuova è sempre necessaria per tutto questo sono soddisfatto e felice della collaborazione di un'equip che ha così ben lavorato e sono certo che questo edificio resterà come un buon esempio d'architettura contemporanea è un buon esempio d'architettura contemporanea grazie a tutti 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 quindi pensavano che devia essere architeto, ma oggi penso diverso. Io vendei per l'architettura e per il designo, ma oggi penso diverso. L'architettura sta nella sua cabeça. Aggi possiamo pensare un progetto e senza prendere il rapito fare un progetto. È una questione di sapere visualizzare, di avere capacità di immaginare la cosa pronta. Quindi posso fare un progetto più semplice, senza prendere un rapito. Pensando due o tre giorni in un programma, ma cosa sarà, ciò che ha in volta, ciò che cerca l'architettura, ciò che cerca l'architettura, ciò che fa parte dell'architettura. L'architettura deve essere armonizzata con l'ambiente realizzato. E questo è diverso. Criare sorpreso, senza guardare e pensare che c'è qualcosa misterioso e che non capisce bene. È una obra che ho in Europa che mi piace più. Criare sorpreso, Criare sorpreso, Criare sorpreso, Criare sorpreso, Criare sorpreso, Criare sorpreso. E la cosa cosi finissima, criare sorpreso. Criare sorpreso, Criare sorpreso, perché è questo che è tutto, è fare una opera che risposta, è sorpresa, non è? E questo è il mandatore che fa molto bene. Perché io sai quando la persona arriva lì e fica spazzato con la colonnata. Non ho mai visto una colonnata, anche oggi, non ho mai visto una colonnata uguale al mandatore. Questo è che è importante, è creare cose nuove, non è? Per esempio, nella Francia, nel Havre. Io fui con il preveito del Havre e vi a una pràcia, che voleva che io designasse un teatro, junto al mar. Io ho guardato, il frio, il vento. Io ho detto a lui, io voglio affondare la pràcia a 4 metri. E lui è stato spazzato, non è? La pràcia era grande, non è? Ma io ho fatto con tanta conviccia, che è stato bene, e affondò. Quindi è l'unica pràcia che io conosco, nel mondo, che era la più bassa. E aveva una razza, io voleva protegerela dal vento, dal frio e tal. E allora è stata tombata. E' stata tombata, perché non c'è una pràcia uguale. Existono le migliori, le più belle. Ma che sia stata abbassata per protegerela, io non ho conosco. Lo mandatore. Io ho visto in alcun l'unico? In alcun l'unico? Io ho visto in alcun l'unico? Non ho visto? 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 Quindi è una creazione, una cosa nuova, che espanta, che cria sorpresa e che è buona. E' la natura. A gente ha di aceito la natura e non tocare la natura, è se adaptare. Ora, noi stiamo parlando molto dell'architettura, ma queste cose. Ma io confesso a voi che a volte io dico che la vita è più importante che la vita. È importante la vita, non? C'è il santo di partecipare, lutar per un mondo miglior, ma justi, con tutti i domani. l'altro, questo a me, almeno, mi preoccupa più di che l'architettura. La vita è importante, non pensi che nulla è importante, un uomo sta passando per il pianeta, non è un sopro, è un minuto, quindi ha bisogno di comprendere il mondo in cui vivere, se adaptare, essere utile, fare un mondo miglior. Anche che l'architettura, apesar di lavorare molto, io penso che la vita, il contatto con le persone, la gente guardare per una persona e pensare che è buona, non pensare che scoprire il difetto. Tutto il mondo ha il difetto. E non pensare che per niente è importante.